L'otoplastica, ovvero la riduzione delle orecchie a sventola, è un intervento piuttosto semplice. Le incisioni sono veramente molto poco visibili perché si effettuano esclusivamente nella parte posteriore del padiglione auricolare, quindi dietro l'orecchio e da questa incisione è possibile avvicinare l'orecchio al cranio per togliere quel fastidioso effetto delle orecchie a sventola. È un intervento che dura circa 20, massimo 30 minuti per lato, può essere effettuato in anestesia locale, talvolta un po' di sedazione il paziente preferisce per affrontare l'intervento in maniera più tranquilla. È un intervento indicato anche ai bambini, soprattutto laddove l'orecchio a sventola costituisce un complesso per il bambino e ovviamente i bambini devono essere accompagnati dai genitori.